I carabinieri del comando provinciale di Bari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di 5 persone vicine al clan Strisciuglio, ritenuti responsabili di usura e distorsione in concorso ai danni dei gestori di un noto esercizio commerciale di Bari nel quartiere Santo Spirito. Le indagini condotte dalla stazione dei carabinieri di Bari Santo Spirito sono state avviate al fine di accertare l'inspiegabile situazione deficitaria in cui stavano versando i gestori dell'esercizio commerciale in questione ormai alle soglie del fallimento. Le persone arrestate sono Onofrio Caldarulo, 45 anni, Vito Pascale, 57 anni, Giovanni Valentino, 49 anni, Maurizio Maino, 45 anni, Andrea Maisto, di 43 anni. Con questi arresti i carabinieri hanno reso finalmente libere le vittime che dal 2012 erano nella morsa dell'usura. Gli arrestati su disposizione del GIP sono stati tradotti nella locale casa circondariale.